Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti alla Rassegna Stampa. Come di consueto iniziamo insieme la giornata, sono le 7.30 e inizieremo naturalmente dal santo del giorno e poi dalle previsioni del tempo. Guardiamo subito il santo di oggi, sabato 7 febbraio, San Teodoro Martire, il sole è sorto alle 7.17 e tramonterà alle 17.27. Ebbene, le previsioni del tempo, guardiamole perché insomma in queste ultime 48 ore veramente il tempo è stato fortemente inclemente con la nostra costa, poi vedremo anche nelle pagine dei giornali. Per intanto il cielo molto nuvoloso nella prima parte della giornata con attenuazione della copertura nel pomeriggio. Le precipitazioni deboli e diffuse localmente anche a carattere di rovescio più insistenti nei settori centro-meridionali. Il limite delle nevicate, quindi fa comparsa anche la neve con un graduale calo della quota fino a 400 metri. Le temperature sono in diminuzione, anche i venti di brezza tesa nelle zone interne e forti lungo la costa con raffiche fino a burrasca. Quindi ancora il mare a destare grande preoccupazione per questo sabato. Vediamo le previsioni per domenica. Il cielo sarà un po' più sereno, poco nuvoloso, però in serata la copertura, quindi la nuvolosità, sarà in aumento nel tardo pomeriggio, possibilità anche di nevicata a quote pianeggianti. Quindi attenzione, comparsa della neve anche in pianura per la giornata di domenica e le temperature sono insensibili, diminuzione. Come vedete compare anche la simbologia delle gelate che chiaramente sono un aspetto del quale bisogna tenere fortemente conto perché sono un rischio per la viabilità. venti occidentali di brezza leggera e saranno poi in rapida rotazione da nord-est con un'intensificazione di vento freddo e raffiche ancora fino alla classificazione di burrasca lungo la fascia costiera. Quindi il mare è mosso con moto ondoso in rapido aumento nella serata fino ad agitato. quindi il mare non accenna a andare in scaduta. Vediamo le previsioni per lunedì, anche qui il cielo è irregolarmente nuvoloso, prevalenza però di sereno a nord di ancora, quindi insomma come vedete nella simbologia la provincia di Pesaro ha il sole pieno e deboli nevicate fino a quota di pianura. Vengono date anche per la giornata di lunedì, quindi attenderemo anche qualche bollettino da parte della protezione civile, vedremo se la neve interesserà anche il nostro littoriale. Le temperature sono naturalmente in diminuzione. Allora, prima però di sfogliare i giornali vi devo fare una comunicazione che ci è stata segnalata pochi minuti fa all'uscita della superstrada Fano Urbino, l'uscita è quella Fano Sud, c'è una pattuglia della Polizia Municipale che segnala del gasolio a terra sul manto stradale. Attenzione quindi in quel punto, se uscite in quello svincolo, soprattutto anche dopo aver passato la macchia di gasolio, perché naturalmente la superficie dello pneumatico viene un po' imbevuta della sostanza che fa un mix micidiale con la viscosità dell'asfalto e quindi subito dopo averla superata la macchia di gasolio, attenzione non frenate con grande decisione perché c'è bisogno che con lo scorrere dell'asfalto il pneumatico si scarichi un po' del gasolio e quindi dopo riprenda la sua funzionalità al 100%. Quindi attenzione, la macchia di gasolio c'è, c'è la Polizia Municipale che lo sta segnalando e attenzione anche subito dopo averla superata, passate qualche centinaio di metri con grande attenzione per dar modo al gasolio che si è adeso alla superficie dello pneumatico di scaricarsi. Bene, questa è una comunicazione che ci derivava proprio da qualcuno che c'è passato sopra e c'è passato vicino, quindi grande attenzione e occhio a come pigiate sul pedale del freno. Bene, ora dopo questa comunicazione affrontiamo subito i giornali e vediamo come sono intrisi. Allora naturalmente è facile pensare che il tempo sia prevalente sulle pagine e allora vediamolo, lo schiaffo del maltempo, il mare spazza via gli stabilimenti, mai vista una devastazione così, danni grossi sotto monte, scenario desolante alla baia e alla palla di Pomodoro. Qui siamo a Pesaro, vedete nella foto piccola lo sguardo desolato del sindaco Matteo Ricci e del suo assessore. Angeloni dei Bagni Bibi dice Finché manteniamo una spiaggia così corta il mare fa quello che vuole e il mare chiaramente non fa sconti a nessuno, qui nella foto grande invece vedete i bagni Margherita sotto un cumulo di legni rotti. Quindi insomma veramente ieri è stata una giornata impegnativa per tante forze dell'ordine, per vigili del fuoco, per polizia municipale, per tutti quelli che erano impegnati a prestare soccorso perché i danni sono veramente notevoli, tanti tanti, infatti nelle pagine che il Carlino dedica a questa cosa, lo schiaffo del maltempo e il titolo si parla già di milioni di euro di danni e in serata è stato lanciato un allarme evacuazione, la municipale ha avvertito i residenti vicino al fiume non occupate i piani bassi e qui insomma le foto sono eloquenti insomma dello stato in cui si presentavano i corsi d'acqua. L'assessore Andrea Biancani dice abbiamo chiesto ai residenti di non stare ai piani bassi e nei garage per la notte, una forma di precauzione in caso di alluvione e quindi insomma veramente ci sono stati momenti di grande paura, vedete questa foto qui una macchina, quello che si riesce a intravedere di una macchina completamente sommersa, c'è stato un appunto momenti drammatici, le hanno urlato di uscire, ce l'ha fatta e quindi è un altro caso del reportage condiviso sul web in panne nell'auto nel sottopasso, donna salvata all'ultimo minuto e i sottopassi sono veramente una forca caudina, sono una trappola mortale alle volte nelle quali insomma si può cadere in questi casi quindi attenzione, noi ieri siamo stati impegnati in due dirette e poi insomma in un riassunto della giornata nel Tg delle 20 e 30 e vi abbiamo mostrato proprio con la nostra troupe in giro con Andrea Velli, l'operatore e Simona Zonghetti che si recavano nei posti dove c'era veramente una situazione pesante, abbiamo visto grande opera di protezione civile e di pompieri insomma per cercare di liberare quando era possibile garage e sottopassi dalla morsa dell'acqua. Ancora le pagine del resto del Carlino però ci sono anche altre notizie che vengono riprese dal giornale e siamo sempre appeso, le poste chiudono via dei cacciatori, semplice riorganizzazione, il personale verrà ridistribuito, reinserito in altre sedi però c'è preoccupazione perché per i sindacati il problema è sociale, le istituzioni locali dovrebbero intervenire, questa è la parola dei sindacati. E poi Varotti, il direttore di Confcommercio, servono controlli contro l'amministrazione, è troppo tollerante, si parla della guerra dei circoli, dei circoli privati, lettera alla finanza, sono attività economiche ed è concorrenza sleale. Cambiamo le pagine del Carlino, andiamo in quelle di Fano per vedere anche qui un'immagine estremamente eloquente di come si presentava la nostra riviera, questa è una foto del Lido, praticamente la sabbia non si vede più, è una distesa infinita di rami e di ogni quant'altro il mare abbia potuto riversare sulla spiaggia e il mare d'inverno quando mette veramente paura, costa flagellata e allagamenti dappertutto, vedete anche qui insomma un noto locale della riviera fanese, insomma quasi praticamente in acqua e anche qui le foto del ormai ultraversato ristorante Ciavarini e questa è la foto che riguarda l'anfiteatro Rastrad che sembra una piscina, una piscina veramente. E ancora dalle pagine di Fano cambiamo però le argomentazioni, parliamo di teatro, assalto al teatro a passo di danza, dateci, diteci quanto costa affittarlo, tre scuole cittadine protestano perché ci vietano questo spazio e quindi insomma le lamentele per usufruire di questo spazio che dovrebbe essere a disposizione di tutta la comunità e poi un gesto, un bel gesto, lascia il portafoglio al distributore e viene ritrovato e i titolari glielo restituiscono perché c'era anche una cifra consistente, 250 euro e quindi insomma alle volte non sempre dobbiamo leggere su queste pagine episodi brutti, insomma alle volte ci sono esempi anche positivi e vanno ugualmente enfatizzati come anche gli episodi negativi. E allora l'ex sindaco Aguzzi, presidente in regione, nessuno me lo ha chiesto, l'ex sindaco mi interessa battere il PD, non la candidatura, queste sono le sue intenzioni politiche. Cambiamo testata, anche il Corriere Adriatico fa un review di tutta la giornata, anche attraverso delle immagini e attraverso anche i suoi articoli della pesante giornata di ieri e anche qui la foto, l'immagine laconica è quanto mai indicativa di Matteo Ricci e dell'assessore Biancani che osservano quanto il mare abbia potuto riversare e la provincia chiede lo stato di emergenza e naturalmente il mare in tempesta devasta l'intero litorale perché insomma da Pesaro fino giù giù, anche Senigallia, insomma sono stati momenti di grande paura. Furia mai vista, questo sembra essere il life motive di diversi operatori, di diverse persone, diversi segnalatori, quello che è accaduto come forza, vedete qui nella foto praticamente questo è il mare e questa è la strada, insomma veramente non c'era più spiaggia, non c'era più spiaggia, quello che è il sentire comune è che una cosa così erano veramente decine di anni che non si vedevano, addirittura poi un pescatore, un marinaio al porto di Pesaro ieri ci ha detto che praticamente la mareggiata è arrivata nel suo massimo della forza in un momento di culmine di marea, quindi c'era proprio l'apice, era un metro sopra il mare quello che era il livello normale, per cui ha avuto anche un metro di vantaggio, ecco perché è arrivato così dentro la spiaggia e fin dove è arrivato, parola di marinaio chiaramente non si confuta. Vediamo la pagina di Fano del Corriere Adriatico, violenta mareggiata, città e costa martoriate, qui vedete i sottopassi come si può immaginare, anche qui le macchine le macchine praticamente esistono solo dal tettuccio in su, diverto completamente, viale Adriatico, garage pieni, li avete visti anche nelle nostre immagini e che siamo andati a carpire in giro per Fano ieri, quindi insomma veramente situazioni drammatiche e il sindaco lascia l'ospedale e chiede lo stato di calamità, il sindaco Seri ieri si è veramente, lo ringraziamo per la sua cortesia, si è premonito di venire subito qui a Fano TV, noi eravamo in diretta a rassicurare un po' i cittadini e a farci capire insomma anche di che cosa si sarebbe occupato nelle ore a venire, grande prontezza sicuramente del sindaco e insomma lascia l'ospedale e chiede lo stato di calamità naturale perché veramente pensiamo che più di così il tempo e il mare non possa fare, una notte a guardare il livello dell'acqua che saliva, chiaramente tante le testimonianze che ci sono giunte anche alla nostra redazione, momenti di grande paura, di grande tensione. Cambiamo argomento perché i giornali si occupano anche di altre cose, non solo del maltempo, allora all'interquartieri, rimaniamo sempre a Fano, all'interquartieri lavori rinviati, Paolini illustra gli interventi, l'assessore Paolini, dobbiamo trovare 800 mila euro e ancora vediamo che il nuovo centro Salus fa un focus sull'invecchiamento, come invecchiare bene e propone tutta una serie di servizi tempestivi e all'altezza. Vediamo anche che a Senigallia ci sono stati momenti impegnativi per il Misa, il Misa fa paura, il Misa che ha fatto veramente tanti danni l'anno scorso e quindi c'era ancora più paura e tensione negli occhi di chi ha vissuto momenti drammatici in passato. Vedete anche qui problemi gli stessi, sottopassi allagati fino al culmine e spiaggia inesistente. Pesaro, cambiamo testata, vediamo il messaggero esonda il Foglia, la piena fa paura, il tempo, il flagello, la costa e non risparmia neanche l'entroterra, sì perché anche l'entroterra è stato sicuramente flagellato da questa ondata di pioggia. Vedete questa è una foto notizia centrale del messaggero Viale Trieste che viene invaso dall'Adriatico e quindi vedete qui praticamente l'auto naviga quasi del Noce. Poi una riunione qui che riguarda i comuni, tutto secondo le regole, l'assessore delle Noci, l'opposizione si rivolga pure al prefetto. Noi siamo a posto, questo è un lancio di politica. Continuiamo a vedere le pagine di Pesaro, incubo per due famiglie, un salvataggio drammatico dei vigili del fuoco con il gommone, abitazioni in vase e la fiumana H. Mazza 7 di Miniera in località San Leo, sgomberati altri inquilini dalle case popolari. Veramente foto che fanno vedere un paesaggio quasi apocalittico in certi momenti. Appeso alle zone del Foglia, le zone industriali sgombrate nella giornata di ieri per motivi di sicurezza. Alcune aziende sono state liberate dai loro dipendenti, sono stati mandati a casa perché appunto non si sapeva in che modo l'evoluzione del tempo sarebbe progredita, con quale velocità e con quale evoluzione. Quindi per precauzione alcuni stabilimenti sono stati fatti sgomberare per tutta sicurezza dei suoi lavoratori. Allora vediamo l'ultima pagina di Fano del Messaggero. qui si punta sulla fusione Aset Spa e Aset Holding. Avanza la fusione, la Giunta ha approvato l'atto di indirizzo, l'occhiello di Seri che dice la delibera è il risultato di un percorso condiviso. Adesso incontrerò gli altri sindaci e poi lotta allo spaccio e al consumo di droga. Ha arrestato per spaccio il gestore di un ristorante, un blitz dei carabinieri a San Michele al fiume in località, il locale rischia la chiusura. In fondo pagina Confcommercio stoppa lo zuccherificio, dice appello al comune, variante da affermare, servono soluzioni di buonsenso e poi un omaggio alla Musica Arabita per quanto riguarda la Musica Arabita, il complesso bandistico di Fano per l'edizione del Carnevale del 2015 che si inaugurerà oggi nella chiesa di San Michele. Tante fotografie per questo gruppo bandistico molto amato nella città di Fano e non oltre. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia. È tutto per questa rassegna stampa che tornerà lunedì mattina alle 7.30 e questa sera, occhio alla notizia in versione flash del sabato alle 20.30. Buon sabato a tutti voi.